Santo, lo facciamo un bilancio di questa bella estate qui da te? Sì, proprio una bellissima estate, ricca di contenuti e soprattutto ricca di partecipazione. Siamo oltremodo soddisfatti proprio per la partecipazione consapevole che c'è stata dalla parte della cittadinanza. Ogni sera abbiamo proposto un evento, che sia stato un evento di cinema, di musica, di presentazione di libri e soprattutto sono andate forti le mostre che abbiamo organizzato. C'è soddisfazione perché in ogni caso dobbiamo dire che c'è bisogno di stare all'aperto, c'è bisogno di poter avere la possibilità di fare un tuffo nella cultura? Sì, noi la cultura l'intendiamo come socialità, come stare insieme e soprattutto per esterare processi di crescita, soprattutto in questo periodo storico dove c'è appunto bisogno di coscientizzarsi e di crescere insieme. Che significa che dobbiamo mettere da parte il fatto che siamo una società liquida? Sì, dobbiamo mettere da parte che siamo una società liquida e frantumata, dobbiamo cercare punti in comune al momento dello stare insieme, di odiare l'odio e di costruire ponti per crescere appunto insieme. Giovani che a queste iniziative del programma estivo ne sono venuti tanti? Ne sono venuti tanti perché molte iniziative le abbiamo organizzate non solo per i giovani ma le abbiamo organizzate con i giovani, sono stati loro stessi protagonisti, quindi hanno usato i loro linguaggi, i loro modelli di comunicazione, insomma il successo è stato anche questo, abbiamo dato spazio alla gioventù che ne ha approfittato e ne ha approfittato con successo. Possiamo dire che anche questo mese di agosto si sta chiudendo in positivo? Si sta chiudendo in positivo con due grandi nomi della cultura calabrese italiana, Carmine Abbate e Gioacchino Criaco, quindi soddisfatti e molto positivo.